Benvenuti su Ultimissima. Prima di cominciare ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nostri prossimi video. Un gesto semplice ma per noi molto importante. Grazie. Chiusura anticipata. Isola dei famosi, per Vladimir è una brutta notizia. E la diretta salta ancora. L'Isola dei famosi, condotta da Vladimir Luxuria, affronta molteplici contrattempi, incluso un numero elevato di ritiri come quello del poeta Pietro Fanelli. Questa edizione è stata problematica con speranze iniziali di nessun ritiro infrante. Per il secondo giovedì consecutivo, il Reality Show non verrà trasmesso, questa volta a causa della semifinale di Europa League su Rai 1. La puntata dell'Isola è stata annullata per evitare la concorrenza con il calcio, rischiando di perdere audience. Potrebbe non essere trasmesso neanche giovedì prossimo, aumentando le speculazioni su una possibile riduzione degli episodi settimanali a causa dei bassi ascolti. Gli ascolti deludenti, attorno ai 2 milioni di spettatori, potrebbero spingere Mediaset a limitare la messa in onda solo a lunedì. Francesco Benigno continua a contrastare con la produzione mentre emergono voci di una nuova eliminazione e possibili conclusioni anticipate del programma. Dejanira Marzano suggerisce che il programma possa chiudere in anticipo, definendolo un flop totale. Infine, un incidente ha visto Pietro Fanelli lanciare insulti a Fedez, aggiungendo ulteriore tensione e scandalo all'edizione in corso. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi aggiornamenti e news.